Da un'iniziativa del Forum Giovanile di Castellabate, alvia il concorso fotografico Selfiamo Castellabate perché? Per partecipare basterà scattare un selfie e inviarlo in posta privata alla pagina Facebook Forum Giovanile di Castellabate. La partecipazione è gratuita aperta a tutti, residenti e turisti. Il concorso è suddiviso in quattro turni per altrettanti periodi estivi. Ogni selfie dovrà essere accompagnato da una frase che inizi con Selfiamo Castellabate perché? E' accompagnata dall'hashtag Selfiamo Castellabate perché? Inviato in posta privata alla pagina Facebook Forum Giovanile di Castellabate. Gli scatti dovranno immortalare i luoghi simbolo del territorio, come ad esempio il Belvedere San Costabile, il Castello dell'Abbate a Castellabate, la terrazza caduti del mare, il Porto delle Gatte, la Torre Perrotte a Santa Maria, il Sentiero della Grotta, l'Approdo Greco-Romano e il Porto di San Marco, il Sentiero Antica Oleaurola, il Molo di Cosa do Iastro, il Belvedere dei Trezenni nella Frazione Lago. Le foto verranno pubblicate sulle pagine Facebook del Forum e verrà assegnato un premio agli autori dei primi tre selfie che agli ore 24 del giorno di scadenza di ciascun turno avranno totalizzato il maggior numero di like. I premi consistono in un weekend, una cena o un aperitivo offerti dagli sponsor dell'iniziativa. Al termine del concorso verrà assegnato a discrezionalità del Forum anche un premio simpatia allo scatto più originale.